E' terminata la partita, quale finalità Ander 21 tra Lazio e Caos Futsal vinta dalla Lazio. E' qua con noi il capitano del Caos Futsal Beppe, mentre vediamo i suoi gol e le altre azioni. Chiediamoli un commento su questa gara. Niente, questa gara è andata un po' male, abbiamo sbagliato su una cosa, tipo il primo gol e subito la commissione. E niente, i ragazzi hanno dato tutto, però la Lazio ha dato un po' di più di noi. Ma questa è una cosa che dobbiamo lavorare sempre di più per migliorare e per andare adesso a prevenzare il campionato e dare tutto. Poi dobbiamo stare in Supercoppa e speriamo di dare la rivista. Grazie a Beppe per la video intervista e ci vediamo nelle prossime partite. Ok, grazie a tutti e forza Caos. Ed ora siamo con Antonio, un dirigente della Lazio, mentre vediamo le azioni della partita. Anche lui chiediamo un commento sulla partita dei suoi ragazzi. Sicuramente è stata una partita vincente, divertente, con tanti gol, tante emozioni. Una partita tra due squadre di altissimo livello che arrivano sempre in fondo in tutte le competizioni nazionali e quindi non possiamo fare altro che fare i complimenti a questi ragazzi che hanno regalato una mattina di sport di alto livello a tantissime persone presenti qui a Palarova di Montesipari. Grazie Antonio per la video intervista e in bocca al lupo alla Lazio per il proseguo della competizione. Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori di Futsal World e speriamo di arrivare in fondo con la vittoria della Coppa.